Ciao, mentre ascolti questo podcast, metti mi piace sulla pagina Facebook Torino Nera. La Chiesa Valdese è una chiesa cristiana riformata, ispirata alle riforme protestanti del Cinquecento. Prende il nome da un mercante di Leone, Valdo, che decise di condurre una vita come gli Apostoli. Era sì fedele al Papa, ma viveva di elemosina e fondò un movimento, i Poveri di Leone. Fu scomunicato ed espulso dalla città nel 1184 come eretico. A causa delle persecuzioni del 1208 nel sud della Francia, i Valdesi si rifugiarono in Valpellice, Valchisone e Valle Germanasca. I Savoia nel Seicento limitarono le libertà dei Valdesi fino all'editto del 1650, che li minacciava di morte e confisca dei beni se non fossero tornati alla Chiesa Romana. Nel 1655 i Savoia imposero ai Valdesi di lasciare le proprie terre e a rifiuto seguì un intervento militare che, secondo documenti valdesi, portò a 1712 morti. Nel 1848 con Re Carlo Alberto ottennero finalmente i diritti civili. Ed è proprio in quelle valli che si svolge la storia che sto per raccontare, una storia da Torino nera. Esce dalla ditta alle 12, non prima di aver chiesto ai colleghi se hanno bisogno di qualcosa. Torna a casa per pranzo, porta fuori il cane e torna in ditta. Questa è la routine giornaliera di Silvana Biagetti, 27 anni, centralinista alla Orma di Rivalda. Lei convive da qualche anno con un ragazzo proprietario di un'enoteca in via Buenos Aires a Torino, proprio sotto l'alloggio in cui vivono. Anche il 9 giugno del 1992 Silvana Biagetti prevede di fare le stesse cose. Esce dalla ditta a pranzo, dice ai colleghi che sarebbe tornata per le 14. Ma non torna più. Colleghi e familiari subito si preoccupano e chiamano gli ospedali. Ma nulla. Non si trova né lei né la sua auto una Seat bianca. E non sono stati registrati incidenti. E una fuga o un rapimento sono, naturalmente, da escludere. Ci vogliono 20 giorni circa prima di ritrovare Silvana. La trovano grazie a una telefonata al 113 che avverte che in fondo a un burrone in località Villanova, a Bobbio Pellice, a 1250 metri di altitudine, c'è un'auto bianca e distrutta. E lì trovano Silvana Biagetti, pochi metri più in là dell'auto, segno che la portiera si è aperta nella caduta. Non presenta ferite d'armi da fuoco e non è stata derubata. Le ipotesi così diventano tre. L'incidente, il suicidio e l'omicidio. Ma tutte lasciano più dubbi che certezze agli inquirenti e soprattutto a chi la conosceva. Silvana, infatti, non amava guidare e quindi perché è andata così lontano? Non aveva problemi che potessero spingere al suicidio e, infine, non frequentava brutte compagnie. Certo, certo, lo sappiamo. Poteva avere una seconda vita che però teneva ben nascosta da chiunque. Proprio nel punto dove è caduta la Ibiza, nei giorni scorsi, abbiamo notato parecchie volte un'utilitaria targata Udine con a bordo un uomo solo. Sembrava voler controllare proprio quel burrone. Sulle prime ci era sembrata una stranezza. Adesso ci fa nascere qualche sospetto. I finestrini anteriori erano entrambi completamente abbassati, un indizio che avvalora in qualche modo che la ragazza non fosse sola. E tra l'altro c'era una marcia inserita e non era la retromarcia. Un elemento che rende meno probabile l'incidente. Queste sono le prime testimonianze e le prime ipotesi di chi vive in zona e degli inquirenti. Qualcuno dice di aver visto anche una ragazza molto simile alla vittima campeggiare lì l'estate precedente e recuperano anche un biglietto piegato in due sul sedile del passeggero dell'auto con un cognome scritto a penna, cartacina. Ma sono tutte cose piuttosto vaghe che indispettiscono tra l'altro i parenti e il fidanzato di Silvana, Marco Vai. Tutti ribadiscono che lei era un'impiegata modello e non sarebbe mai andata da sola in montagna. Poi amava moltissimo il suo fidanzato e non avrebbe mai dato un passaggio uno sconosciuto, oltre a non conoscere nessuna udine e non aver mai campeggiato in zona. La svolta arriva il 30 giugno quando ritrovano sotto un sasso vicino al burrone le chiavi dell'auto e 35 metri più in basso la borsa di Silvana, segno che potrebbe essere stata lanciata in seguito. Ci sono anche alcuni indumenti come un cinturone di pelle che indossava sopra un maglioncino trovati un po' più giù. Potrebbe averli persi durante l'impatto oppure potrebbero essere stati tolti prima. L'autopsia conferma la morte per lesioni da impatto, esclude l'annegamento e il soffocamento. Tutto ciò porta a fare un'ipotesi, Silvana conosceva il suo assassino che è incontrato fuori dalla ditta o sotto casa e con il quale poi, o con le buone o con le cattive, sarebbe andata in Valpellice dopo un possibile diverbio uccisa. L'assassino prende le chiavi dell'auto, imprigiona Silvana nel veicolo e la spinge nel burrone. Potrebbe aver senso anche perché è scomparsa l'agenda della ragazza che conteneva tutti i numeri dei suoi contatti. Da un po' di tempo un uomo cercava Silvana con insistenza. Fino a tre anni fa lei aveva avuto una storia con un uomo sposato. Non ne ha mai parlato e non lo conosco. Ha ripreso poi a telefonarle. La voleva rivedere. Era geloso. E' andato anche alcune volte in casa dei genitori. Questo è quello che dice uno zio, che apre un filone interessante, e cioè che la vittima avesse una seconda vita e un passato con frequentazioni non proprio raccomandabili. Gli inquirenti iniziano a pensare che Silvana non fosse una ragazza chiusa e introversa, ma una che aveva tanti amici, come detto, alcuni dei quali un po' particolari. Scavano nel suo passato e scoprono che a fine anni 80 era fidanzata con un certo Bruno Miotti, morto poi d'infarto nei primi anni 90. Miotti viene arrestato per tre chili di hashish con altri due complici, ma era soprattutto al centro di un grosso giro di fatture false ai danni della CITAF, la società italiana per il traforo autostradale del Frejus. Si parla di 3,5 miliardi di lire riutilizzati forse in tangenti. Anche Silvana finisce in questo giro e viene interrogata dichiarandosi però estranea ai fatti. Quello che pensano è che alcuni del Giro di Miotti abbiano continuato a frequentare Silvana o siano tornati per chiudere qualche proverbiale conto in sospeso. C'è anche l'uomo sposato, quello indicato dallo zio, che suscita qualche interesse come un collega che frequentava più assiduamente. Secondo i grandi Fruttero e Lucentini, l'assassino è un amante respinto o un ex, con moglie e una vita rovinata che l'avrebbe portata lì per un ultimo e vano tentativo. Per un po' le indagini non portano nulla perché manca sempre il movente e si fa largo l'ipotesi di un incidente, anche se per Salvatore Longo, capo dell'omicidi, la fatalità non è possibile. Siamo di fronte a un caso speciale. In questa vicenda l'unica cosa certa è che Silvana Biagetti non si è uccisa. Mai come in questa vicenda ho letto su giornali e settimanali tante inesattezze. La realtà è ben diversa e nemmeno per noi è stato facile ricomporla. Sinora abbiamo sentito più di cento testimoni tra ambienti di lavoro e vecchie e nuove amicizie, persino conoscenti. Ne abbiamo ricavato poche certezze e una convinzione profonda. Era una ragazza con una vita estremamente regolare. Una persona seria, persino metodica. La sua giornata tipo potrebbe ridursi al lavoro, genitori e Marco il fidanzato. Aveva una sola relazione con Marco Vai. Non avventure in giro, come immaginato con qualche leggerezza da tanta gente. Nonostante le certezze di Longo, nel settembre del 1992 i periti stravolgono tutto. Per loro è stato un incidente. I periti Torre e Ghio non trovano indizi o segni che possono smentire in qualche modo la morte accidentale. Secondo loro la ragazza era viva al momento della caduta e viaggiava intorno ai 30-50 km orari. Certo, ci sono le chiavi dell'auto trovate sotto il sasso, ma lì pensano possa essere stato uno sciacallo in caccia di pezzi dell'auto, che poi, resosi conto della tragedia e preso dalla paura, abbandona l'oggetto. Ma gli investigatori non mollano. Trovano un amico o un amante che dice che Silvana usava cocaina e che andava in Val Pellice per rifornirsi. Il tutto però viene duramente contestato da Marco Vai, che nega che la fidanzata facesse uso di cocaina e anche che avesse un amante. Ma la tesi di una doppia vita prende sempre più piedi quando un testimone, dopo due mesi, dice di aver visto spesso la ragazza in compagnia di un uomo frequentare un rustico in una piccola frazione di Bobbio Pellice nei giorni feriali. Ma anche questo alla fine non porta a nulla di concreto e l'indagine rischia di finire in archivio. Ma un giorno, un uomo si recca dalla polizia. L'ho incontrata la prima volta in un ristorante a Saluzzo ad ottobre del 1991. Era con due uomini, uno sulla cinquantina e l'altro sulla trentina. Mi ha subito colpito. Le ho sorriso e lei mi ha sorriso. Ci siamo presentati poco dopo, diceva di chiamarsi Roberta. Le ho chiesto un appuntamento e ci siamo visti due sabati dopo davanti a un bar di Pinerolo. Era vestita in modo decisamente attraente. Le ho proposto di andare a cena. Lei ha scartato i ristoranti di Pinerolo e siamo andati a Torino. Abbiamo mangiato una pizza e superata la diffidenza. Mi ha detto di chiamarsi Silvana e mi ha raccontato del suo lavoro. Qualche tempo dopo, tra novembre e dicembre, ci siamo visti in piazza Solferino. Lei era un po' strana. Mi ha chiesto di accompagnarla a Como per vedere il lago. La mi ha chiesto di essere accompagnata davanti a una villa molto elegante vicino al lago. Non so chi ci abitasse. L'ho aspettata per mezz'ora, poi siamo tornati a Torino e nel viaggio mi ha parlato di un giro di azioni che aveva acquistato per conto di altri, per gente che non voleva figurare. Dopodiché non l'ho più vista. Ho visto poi la sua foto sul giornale. La testimonianza è sicuramente interessante perché Silvana era già stata associata a Saluzzo dove l'avevano vista e, seconda cosa, non è la prima volta che la legano ad attività finanziarie non chiare. Ed è sul giro di fatture false e tangenti che gli inquirenti si concentrano nel luglio del 1993, un anno dopo la morte di Silvana. Del caso, il primo novembre del 1993, si occupa anche la trasmissione Chi l'ha visto che riceve una telefonata in redazione nella quale si parla di traffico di armi legato sempre a Bruno Miotti e di cui, in qualche modo, Silvana faceva parte. Alla fine però manca sempre l'evidenza dei fatti e nel gennaio del 1994 il procuratore della Repubblica Giuseppe Marabotto invia gli atti al GIP Vincenzo Papillo con la richiesta di archiviazione. La cosa non esclude che Silvana sia stata assassinata, ma mancano dati, dice Marabotto, a sostegno di questa tesi. La famiglia di Silvana però si oppone duramente e oltre a costituirsi parte civile, ottiene una deroga di altri tre mesi in virtù del fatto che c'è. Un'ultima possibilità. C'è infatti un collega di Silvana che si è licenziato lo stesso giorno della sua sparizione per poi ritirare la liquidazione e partire per gli Stati Uniti. Un collega, dicono, innamorato di Silvana ma respinto e che alla fine negli Stati Uniti non c'è mai andato. E dicono anche avesse invitato Silvana a seguirlo all'estero. Lo trovano in una macelleria in via Cibrario a Torino, dove ha iniziato a lavorare. Conoscevo Silvana, certamente, e ho lavorato come operaio alla Orma per circa sei mesi. La Biagetti era una bella ragazza, la si guardava volentieri, ma fra noi non c'è stato assolutamente nulla. L'unico attimo in cui la incrociavo era il momento di bollare per i cartellini presenza. Per qualche mese ho continuato a darle del lei. Poi un giorno Silvana mi ha rivolto la parola e abbiamo parlato un po'. Da quel momento siamo passati al tu, ma sempre in un totale rispetto reciproco. Non l'ho mai invitata a venire con me negli Stati Uniti, è un'invenzione bella e buona. Mi sono dimesso lo stesso giorno, solo perché avevo trovato un lavoro migliore. Quel giorno poi ho lavorato mattino e pomeriggio qui e poi sono andato a ritirare la liquidazione. È un ultimo sussulto che, anche questo, non porta a nulla. È nel maggio del 1994, il caso viene archiviato. Cosa ci sia dietro questa storia non si è mai saputo. Una seconda vita, una fatalità, ma di certo per il capo della mobile Faraoni, questo caso è una macchia indelebile. Sì, noi pensiamo all'omicidio. Quindi ad un assassino libero da arrestare. Ecco perché questa sconfitta brucia. Se ti è piaciuto questo podcast, metti mi piace sulla pagina Facebook Torino Nera. Grazie a tutti.